All'interno dello scuola noi abbiamo pensato di fare delle formazioni specifiche che danno alla fine dei patentini, questo è solo perché ci sia un riconoscimento specifico dell'approfondimento della materia in oggetto. In maniera particolare abbiamo pensato alla psicodiagnosi e quindi al test di Varteg, che all'interno sul quale lavoriamo da 30 anni in ambito clinico, che è uno dei test che abbiamo considerato tra i più profiqui di facile somministrazione, che implica però una conoscenza approfondita anche dei parametri psicometrici e quindi il rilascio del patentino è il riconoscimento che queste persone potranno utilizzare questo elemento psicodiagnostico. Un altro patentino riguarda l'utilizzazione del training autogeno come strumento terapeutico, il training autogeno che fa riferimento però all'ICSAT, che è l'associazione in Italia che protegge il training autogeno, che lo elabora in maniera anche psicodinamica. L'obiettivo è stato quello di fornire degli strumenti utilizzabili anche con la fascia adolescenziale, oltre che con i genitori, perché abbiamo fatto esperienze molto importanti di rilassamento con i genitori o con i genitori e bambini insieme. L'ultimo patentino riguarda un test che è nato dalla nostra esperienza clinica, che è il test del contagio emotivo, che è quello che ci permette di creare un livello, una gradualità all'interno del processo empatico, per non dire che tutti i bambini autistici hanno un'assenza di empatia, ma possono avere un inizio che poi abbiamo visto essere predittivo di futuri sviluppi.